bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e anche oggi ragazzi tutte le news delle ultime 24 ore di fortnite le trovate racchiuse in questi pochi minuti nel video di oggi parleremo dell'uscita ovviamente del bundle di marvel con una curiosità dedicata al trailer invece per quello che riguarda la skin di black panther e le motte wakanda ci sono delle particolarità che sono davvero molto interessanti e dei richiami a qualcosa che potrebbe capitare proprio nel trailer di ieri ma vedremo anche un pacco misterioso che happy games sta inviando a molti influencer e che continua ad essere diciamo una speranza per tutti quelli che stanno aspettando il ritorno di fortnite su ios ovviamente non mancheranno tanti leaks prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticate di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica con i miei video news ma prima di cominciare ieri visto che è piaciuta tanto ve la faccio anche oggi la domandina non posso non farvi la domandina domandina di oggi davvero molto molto semplice cosa ne pensi del bundle marvel che è uscito ieri vale la pena di essere shoppato oppure non va shoppato dai ditemelo qua sotto nei commenti perché sono curioso di capire quanti di voi lo hanno preso tra l'altro ci allacciamo al bundle di marvel come sapete sono tre le skin che vengono date ci sono i picconi il backpack i deltaplani e ovviamente vi ho anticipato c'è stato un trailer che non era tanto dedicato al al bundle in sé di marvel ma a black panther ve lo voglio fare vedere per commentarlo un attimo insieme e come vedete ci sono molte skin tra cui quelle appunto anche del nuovo bundle che guardano uscire dalla testa della pantera proprio black panther che sta facendo il suo saluto potrebbe appunto essere anzi è sicuramente un omaggio all'attore immagino scomparso qualche mese fa e la cosa davvero curiosa di questo trailer è che se voi guardate dietro a wolverine è presente anche l'agent jonesy quindi l'agente jonesy quando è presente in queste situazioni è molto interessante come cosa perché non si capisce mai se si è nel punto zero oppure se si è nella realtà parallela quindi è molto carino capire anche questa cosa sappiamo ovviamente nella storia in principale che jonesy sta in questa season andando a caccia di tutti i cacciatori di taglie per poter compiere la sua missione anche se come al solito non è mai niente di chiaro e per terminare questo omaggio a black panther l'immagine che vedete qua sotto non è altro che la copertina della pagina ufficiale di twitter del nostro donato mostarda anche lui ha voluto fare un piccolo omaggio e ha messo a punto questa immagine che è davvero molto molto bella ma andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi e vi ricordo che siamo nel pieno delle sfide del winterfest quella di ieri era davvero semplicissima richiedeva di sorvolare per 5000 metri la mappa con un aeroplano quindi ci sono 5 6 avamposti dove potete andare tranquillamente a recuperarlo una volta che avrete sorvolato per quella distanza vi verrà regalato l'adesivo della del pupazzo di neve a forma di granata quindi fatelo ragazzi che ne vale davvero la pena tra l'altro ne approfitto per darvi una dritta però ho paura che sia stata disabilitata oggi la modalità quella solo il piccone il pickax frenzy si chiamava se la modalità dovrebbe ancora essere disponibile fatela subito perché c'è un bug dove potete attivare un falò a ripetizione un numero infinito di volte questo vi permetterà di fare 75 mila punti esperienza se non avete ancora compiuto le sfide del falò spero non lo abbiano non l'abbiano già disabilitata ma ne ho parlato anche ieri in live andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché come sapete c'è un altro bug abbastanza fastidioso che ha colpito tantissimi giocatori in questi giorni ed è quello della perdita del proprio gold nonostante lo avete accumulato quando si giocavano delle partite nelle ltm natalizie non a tutti ma alcuni giocatori purtroppo si ritrovavano azzerato il gold e non gli veniva più dato questo problema è arrivato per fortuna allo staff di epic games che pubblica un tweet direttamente dalla pagina di fortnite status dicendo update in seguendo il problema che abbiamo riscontrato noi siamo stati in grado di ridare il gold ai giocatori che hanno perso 2000 o più lingotti d'oro non siamo purtroppo in grado di ridare il gold ai giocatori che hanno perso meno di 2000 lingotti ci dispiace per l'inconveniente quindi diciamo che loro ce l'hanno messa tutta spero che siate tra le persone che sono riuscite a recuperare i propri lingotti d'oro perché dai è un po una sbattina andare sempre a farmarli e chiudiamo con l'ultimo argomento di oggi che è questo bellissimo pacco che sta arrivando ai più grandi influencer il free fortnite pack una nuova come dire una nuova cosa non mi viene il termine che continua a far capire quanto fortnite ci tenga al fatto che il proprio titolo torni disponibile anche per i giocatori da mobile il free fortnite pack di questa volta comprende una tuta bellissima con con la zip davanti e un samsung tab s7 questo è appunto una una delle cose più carine che si possono ricevere per natale si siede gli influencer di fortnite il tutto è allegato con un bigliettino che dice siamo stati nominati come gioco dell'anno nel samsung galaxy store per celebrare questa cosa noi abbiamo collaborato con samsung per inviarti un piccolo speciale un piccolo regalo mentre fortnite ancora non è disponibile nel google play o nell'app store tu puoi comunque ottenere gli ultimi update di fortnite direttamente dall'app di epic games sul galaxy store quindi ragazzi è davvero un pensiero carino e io continuo a sperare che un giorno fortnite tornerà sui dispositivi ios per riprendere tutti quei giocatori che purtroppo sono stati obbligati a lasciarlo insomma ragazzi io anche per oggi tutte le news ve le ho dette vi ringrazio per avere guardato questo video mi raccomando non vi dimenticate di premere il pollicione in su iscrivetevi ai miei canali noi ci vediamo alle 8 in live su twitch ciao